No, io sinceramente non scarto a priori nessuna idea, ho semplicemente risposto alla domanda di un follower. Ci mancherebbe altro che io scartassi a priori l'idea di innamorarmi a distanza. Dovesse succedermi di nuovo, vedremo come va a finire. Fino a questo momento non ha funzionato. Quando sono stato innamorato a distanza non ha funzionato. La mia esperienza è questa, incontrovertibile. Poi, se la tua esperienza è diversa, che buon pro ti faccia, che Dio ti benedica. Voglio dire, se tu ci sei riuscito, che bello, sono molto felice per te. Io no. Ma non è che scarto l'idea a priori, anche perché l'amore e i sentimenti sono una materia, secondo me, per la quale è inutile prendere delle decisioni in merito. Nel senso che poi la vita ti può far ricredere, ti può far innamorare, di persone delle quali non pensavi mai sarebbe potuto accadere, in modalità che non pensavi mai potessero essere in qualche modo. Quindi mai dire mai, per carità, nella maniera più assoluta. Certo, l'innamoramento è una cosa, l'amore è un altro, perché tu puoi innamorarti di una persona e provare quel batticuore, ma poi, se ci vuoi costruire un rapporto, devi lavorarci, devi faticare. Chi lo diceva qualcuno molto più famoso di me, che innamorarsi succede, l'amore si fa, si costruisce, si soffre, si lotta ogni giorno, quindi devi decidere di affrontare. E io avevo anche deciso di affrontare, ma col tempo non ha funzionato. Non è colpa mia, nel senso, io ci metto sempre tutta la buona volontà, non scarto mai niente a priori. Grazie.